Diventerà un monumento alla democrazia e alla legalità la villa di San Giusto Canavese confiscata nel 2011 al boss Nicola Sisi e ora in attesa di essere riqualificata. L'accelerazione definitiva all'iter che dovrebbe riconsegnare l'immobile alla collettività è arrivata dalla presidente Alberto Cirio che venerdì 19 luglio ha voluto riunire la sua giunta proprio nella casa di strada della Mosa dove nel 2015 gli uomini del Gico della Guardia di Finanza trovarono seppelliti 4 milioni di euro in contanti frutto del traffico internazionale di stupefacenti. Un'attività che a Sisi ha continuato a svolgere anche della titante fino all'8 luglio scorso quando è stato arrestato dalla polizia federale brasiliana a Praia Grande. Presenti al sopralluogo voluto proprio nel giorno dell'anniversario della strage di Viedamedio che costò la vita al giudice Paolo Borsellino e i cinque agenti della scorta, il prefetto di Torino Claudio Palomba, il procuratore Giancarlo Caselli e il neopresidente del Consiglio regionale Stefano all'Asia. È una giornata di impegno specifico della giunta regionale e del Consiglio tutto per cercare di reperire i fondi, per ripristinare l'immobile e ridarlo alla società. Dubbiamente è una giornata particolare come questa che è un giorno di ricordo speciale per la nazione. Qua nel Piemonte abbiamo necessità anche di monumenti, questo dovrà essere un movimento alle legalità in Piemonte. Oggi la villa porta ancora i segni dell'attentato incendiario di un anno e mezzo fa, segnale che la criminalità organizzata non aveva rinunciato a rivendicare la sua presenza sul territorio. Anche per questo tutto lo stabile necessita di un intervento di messa in sicurezza che si aggiunge alla necessità di sanare alcuni abusi. 80.000 gli euro necessari per concludere i lavori, cifra che la regione si è impegnata a reperire. Poi andrà individuato un progetto per restituire l'immobile alla collettività, anche con la collaborazione di Libera. Adesso per quel che riguarda questo bene c'è da parte dell'Agenzia per i beni confiscati un impegno a sanare alcune delle situazioni della struttura, c'è un impegno, una disponibilità diciamo da parte della città metropolitana ad acquisirlo nel suo patrimonio indisponibile, c'è un impegno oggi ben rappresentato dalla regione Piemonte di contribuire a questo progetto anche economicamente e bisognerà costruire una cordata di realtà del terzo settore, di associazioni di cooperative che vogliano riutilizzarlo. Quindi è un percorso ancora lungo ma che noi come Libera speriamo che si possa veramente concludere entro la fine di questo anno in modo che il 2020 si apra con questo luogo e possiamo tornarci tutti insieme in un posto riutilizzato e una ricchezza per il territorio.